Grazie a tutti, grazie, 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 ok, quanti di voi avevano già visto i dischi alle tuoi prima di stasera? Grandi, è sempre una grande gioia anche se, dite una balla, dite, alzate tutte le mani e facciamo finta di essere tipo, dai, su, anche perché ti facciamo prima, dai, continuo, no, a parte di scherzi, sapete che noi quando facciamo i dischi, grazie, guarda che non siamo dietro una destra, e dicevo, sapete che, cioè, chi ci conosce sa che abbiamo spesso degli ospiti sui nostri dischi e ce n'è uno in particolare che è stato ospite per un sacco di volte, tanto che ho cominciato a dire, non è che ho visto il creato, poi te lo vedo, però ci stanno, che è qui questa sera in mezzo a noi, adesso io qua non lo vedo, però dovrebbe essere qui in qualche parte, non lo vedo, ah, è già dietro? Sei già dietro, ce l'ho due in mano e tu sei già dietro, va bene, quindi vorrei chiedere un bel applauso per il nostro magnifico ospite di questa sera, mister, Alessandro Conti! Allora, buonasera, ragazzi, un applauso agli Skeletons, ci sono anch'io, allora siamo più ragazzi, stai già studiando comunque, una band che mi fa nominare molto discutibile e ispirati a nessuno, no, perché proprio non mi piacciono anche un po', però, allora ragazzi, cosa facciamo? Allora, è tutto improvvisato, dovete sapere che non abbiamo provato niente, ti chiedo un pochino di voce qua, perché siamo a freddo, così, state bene tutti, ah ecco, così ci siamo, è tutto improvvisato, ma ho fatto un attimo che c'è, oh, sei un grande, un bel applauso d'Alessandro Conti, un testo, in realtà è il testo di un'altra canzonetta, perché tu sei capito, no, questa è una poesia che adesso vi voglio leggere, parla del Covid e della guerra dell'Otrina, però non la faccio qua e la leggo dopo, vedete? Ok ragazzi, direttamente dal nostro terzo disco dei Never Say Die, un tributo al team The Goonies, questa è la canzone che parla di Chunk e della Chuffle Chuffle, questa è The Chuffle, Come on, do it, come on, do it! Oh! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti